Vorremmo un po' leggere questo articolo su Sonatype. L'importanza dei Software Bill of Materials è, insomma, un shift significativo verso la trasparenza e la security del software management. Spero che dichiari cosa sono gli Osbombs, cioè che vi descriva cosa sono gli Osbombs, se no ve li descrivo io. Come Giovanni non conosce nessuno dei due? Male, bisogna conoscere. Allora, approfittate di questa formazione gratuita di Sonatype e del sottoscritto. Allora, catalogando ogni componente del software, gli Osbombs sono un framework cruciale per organizzare le informazioni. Questa struttura aiuta nel prendere decisioni informate per ovviamente avere più sicurezza, compliance e avere una gestione del software più efficiente. Andiamo a vedere come sbloccare il potenziale di Osbombs facendo un deep dive nei vari standard. Foundation per gli Osbombs. L'ordine esecutivo 1428, questo si sta parlando di Stati Uniti, eh? Questo è un ordine esecutivo degli Stati Uniti nel 2021, quando si sono accorti che la supply chain software, con supply chain software cosa intendiamo? L'ho, credo, detto mille volte, però lo ripeto, sono tutti i passaggi che portano un software dal codice sorgente all'artefatto buildato che entra nelle vostre case. Quindi tutti i passaggi, la build, i test, la build ovviamente include il download di dipendenze da altre parti tipo NPM o Composer, crea la build del software, questa build poi viene firmata, testata, bla, bla, bla. Insomma, tutti i passaggi della continuous integration e continuous delivery formano la supply chain software. E naturalmente questa supply chain software può essere manomessa. Ci si può infilare in qualche punto di questa supply chain e distribuire cose brutte. La cosa, per esempio, era successa a SolarWinds. Vi ricordate? SolarWinds è produttore di un software che si chiama Orion. Tutte le grandissime aziende americane e istituzioni pubbliche avevano Orion nel loro parco software. Orion, naturalmente, è aggiornato automaticamente. Quindi loro accendono il loro PC, da SolarWinds arrivano gli aggiornamenti automatici a Orion e si installano benissimo. A un certo punto qualcuno si è accorto che tutte le istituzioni che avevano Orion erano infettate da un malware. Perché? Perché qualcuno aveva compromesso un punto della build di Orion e quindi silenziosamente questa compromissione ha fatto sì che l'aggiornamento fosse infetto da un malware. Quindi arriva l'aggiornamento Orion, tutti si installano tranquillamente e va via. Compromettendo un punto della supply chain software si va a infettare automaticamente tutti quelli che dipendono da quel punto, insomma, da quella dipendenza. S-Bone si applica anche a software liberi open source? Certamente, certamente. Anzi, a maggior ragione. La libreria open source perché le libreria open source oggi sono la base e la fondamenta di tutto il software. Cioè si parla di, alcune stime dicono 95, 97, 98. Se guardate le stime, questa è la percentuale di codebase nel mondo che include almeno una libreria open source. Cioè praticamente tutto il software nel mondo include qualcosa di open source. Quindi è fondamentale che anche le librerie open source siano protette in questo modo. Allora, vediamo cosa si dice cosa sono però tecnicamente gli S-BOM. Questa direttiva, quindi la direttiva 14.08, dice che gli sviluppatori e chi adotta gli standard, no scusate, dice che gli sviluppatori debbano adottare gli standard che facilitano la creazione, lo scambio e l'utilizzo di S-BOM per assicurarsi l'integrità e la security. Naturalmente gli standard sono fondamentali per gli S-BOM, eccetera. Gli standard promuovono interoperabilità e best practice. L'ordine esecutivo, il NIST è naturalmente l'agenzia americana per gli standard and technology, naturalmente, National Institute for Standard and Technology, si è concentrato sulla creazione e uso di S-BOM. Attraverso questi standard S-BOM sta diventando un tool potente nell'arsenale della cyber security che fornisce insight cruciali, fondamentali per la composizione del software e può informare sul rischio, la compliance e le strategie di sicurezza. Quindi adottare standard S-BOM non è soltanto essere compliant con la legge, cioè la legge vi dice di adottare, quindi se dovete essere compliant, ma anche un vantaggio strategico per le organizzazioni che vogliono essere più sicure. Allora, qui va direttamente sugli standard. Faccio allora un passo indietro per spiegare che cos'è un S-BOM. S-BOM è una sigla che sta per Software Bill of Material e è di fatto un elenco delle dipendenze di un software. Quindi nel Software Bill of Material voi trovate, elencate tutte le dipendenze di quella specifica build del software. È come se vi guardaste l'elenco degli ingredienti di un sugo pronto al supermercato. Guardate, c'è l'elenco degli ingredienti. In realtà è anche più complesso, perché non solo vedete l'elenco delle dipendenze, ma per ogni dipendenza vedete anche la versione di quella dipendenza e anche il sorgente da cui quella dipendenza viene scaricata. Poi, a seconda del formato, ci sono più o meno dettagli su queste dipendenze. Chiaramente quindi, se voi avete un elenco delle dipendenze e esce un annuncio che una dipendenza è stata oggetto di un hack, insomma è stata compromessa, o è uscita una CVE nota su quella specifica versione di dipendenza, voi automaticamente fate scanning del S-BOM del software con altri tool. Qualcuno vi dice, ah, questa dipendenza ha una CVE nota. quindi poi a seconda delle vostre regole automatiche potete andare a intervenire togliendo quella dipendenza, aggiornandola, eccetera, eccetera. Quindi questo è un modo per avere sotto occhio qual è lo stato delle dipendenze della vostra codebase. È ovviamente un formato automatico, perché così potete darlo in pasto a dei tool che lo scorrono e poi dicono ok, è tutto a posto, oppure ci sono delle insicurezze o cose. E naturalmente potete creare delle regole automatiche che impediscano la distribuzione del vostro software se qualcuna delle dipendenze non segue determinati standard. Quindi si creano dei software in più che voi mettete nella vostra CICD e impediscono appunto build e distribuzione di quel software se non raggiungere requisiti. Qui si parla soltanto di elenco di dipendenze. Poi ci sono altri formati invece, tipo OpenVex, ma non credo che ne parlino qua, però iniziate a segnarvi questo nome, che invece fa un elenco di vulnerabilità note. Quindi prende un SBOM e crea un altro documento che è l'elenco di vulnerabilità note presenti nel vostro SBOM. Non sono note, vulnerabilità note e sfruttabili. Perché se voi avete un software con una vulnerabilità nota, una CVE, non è detto che quella CVE sia sfruttabile sul vostro software, perché magari le condizioni per sfruttarla non sono quelle del vostro software. Perché se voi avete installato un pacchetto e c'è una vulnerabilità che dice che quel pacchetto può essere sfruttato per accedere alla porta 21, 50p, ma la porta 21 voi ce l'avete chiusa, non è possibile sfruttare quella vulnerabilità. Ho detto una cazzata, no? Ma per dire, serve anche sapere se quella vulnerabilità è exploitabile, come si dice, no, sfruttabile. Quindi OpenVex vi dà un elenco di vulnerabilità note a partire dall'ESBOM. Spero di aver spiegato bene che cos'è l'ESBOM. Elenco dipendenze del software, bene con le varie versioni, sorgenti, eccetera. Ci sono l'NTIA, quindi National Telecommunication Information Administration, un'altra agenzia federale, riconosce tre formati per ESBOM. Ogni formato ha i suoi punti di forza e di debolezza. Cyclone DX è il primo formato. È un formato open source e è stato creato dalla community OWASP. OWASP è una community di esperti di cyber security in open source e è pensato per la sicurezza della supply chain software. È, insomma, famoso per essere leggero e, appunto, con queste sue caratteristiche può facilitare la creazione di automatismi e quindi l'adduzione in ambienti che fanno dell'automatismo e delle pipeline, insomma, un requisito fondamentale. Questo formato supporta un array di material, quindi di dipendenze, sia hardware che software che servizi. Immaginate di avere una dipendenza di una build che contiene anche dei container che hanno dei sistemi operativi, quindi avete anche altro tipo di dipendenze, oltre che hardware, apparentemente. Magari avete un'app che dipende da un hardware specifico e quindi è piuttosto versatile, no? Cyclone DX è pensato per la mitigazione del rischio nella cyber security e quindi è critico, soprattutto in settori come il governo e la difesa. Ha compatibilità con più di 200 tool e più di 20 linguaggi di programmazione. Ha il supporto per il licensing, incluse licenze SPDX e espressione. Allora, questo non l'avevo detto. Nell'ESBOM si elencano anche le licenze delle dipendenze e questo è importantissimo perché ci sono alcune leggi o magari potreste avere delle politiche aziendali, però mettiamo che ci sono delle leggi, no? in ambito pubblico che vi dicono che un certo tipo di licenza del software voi non la potete usare nella vostra code base, nel vostro parco software. Ebbene, quindi avete un modo per dimostrare di essere compliant, come fate con l'ESBOM che riporta tutte le licenze e quindi se una licenza non soddisfa il requisito della vostra istituzione o della vostra azienda, non lo potete usare perché quella dipendenza non è usabile. Quindi c'è anche una questione di licensing, di compliance con le licenze. Allora, le caratteristiche principali di Cyclone DX sono l'enfasi su uno spettro di software e di componenti software e hardware con un focus sulle vulnerabilità e sulle licenze. Dopodiché, supporto nativo per diversi componenti identity che includono coordinate, package URL e GPA. Ok, quindi per sapere quel pacchetto, quella dipendenza, quell'artefatto da dove arriva, chi l'ha fatto, quale è la sorgente URL, eccetera. Un caso d'uso ottimale potrebbe essere, ecco, ideale per scenari che richiedono una sicurezza stringente e misure di risk management, quindi il pubblico fondamentalmente, le istituzioni e quindi anche ambienti che prioritizzano automazione e continuous enhancement attraverso il software development life cycle. Ok, quindi questo si inserisce proprio in una continuous integration. tu ogni volta che fai una build crei un nuovo SBOM e aggiorni quello precedente. Dopodiché c'è SPDX. SPDX è stato, è creato e supportato dalla Linux Foundation e rappresenta, insomma, una pietra miliare nel software package data exchange che è uno standard. È un, anche questo, blueprint open source per SBOM e semplifica la... Vabbè, anche qua riporta dettagli del software come nome, versioni, componenti, licenze, copyright e riferimenti di security. È perfetto per ridurre le ridondanze e stare attenti all'essere compliant con le regole, con le norme e con i requisiti, ecco, pubblici, insomma, per gli standard internazionali. È perfetto per la trasparenza della supply chain e facilita sforzi collaborativi tra diversi ecosistemi. Chi ha attributes? Attributi principali di SPDX. La precisione del documentare i componenti del software, le licenze e altri dati critici. Quindi è fondamentale, indispensabile per i framework legali. Quindi, probabilmente, se voi lavorate in un settore dove è richiesta compliance legale in un SBOM, quindi nel vostro parco software, probabilmente SPDX è il formato perfetto. Ricordo sempre che SBOM è sempre la stessa cosa, è soltanto il formato con cui questo elenco viene generato. Sono molto simili, ma cambiano in alcuni punti, qualche attributo, eccetera. Sono sempre SBOM, cambiano soltanto un po' il formato. E spesso poi i tool che generano SBOM o leggono SBOM li supportano entrambi, quindi basta solo cambiare il formato, no? In cui viene prodotto o letto un SBOM. Quindi, poi, abilita, SPDX, il linking di artefatti a riferimenti globali come CPE, PackageURL, SWEED, vabbè. Quindi potete legarlo a degli standard che vi danno il tracciamento delle dipendenze. Un caso d'uso ottimale è l'uso in vari ecosistemi come l'open source e il codice proprietario, vabbè. è pensato per essere adottato in praticamente qualunque scenario, quindi, in qualunque scenario di software. L'ultimo formato è SWID, S-W-I-D, S-W-I-D, Software Identification Tags. Questo è definito da lo standard ISO, IEC, vabbè, che è un framework metadata per elencare anche qua le software entity. Quindi sono dei tag che hanno dei, quindi dei metadati che hanno altri dettagli critici come la versione, il produttore e altri metadati descrittivi per fare sempre assessment del vostro parco software quindi, e quindi anche per vedere le vulnerabilità e altre operazioni legali. E le cose importanti, gli attribute principali di SWID sono che i tag sono facili da comprendere, quindi potete usare facilmente dei metadati per capire il vostro inventario, il vostro magazzino del parco software, sia per software commerciali che per software open source e poi il processo per creare i tag SWID è streamlined, è facile, quindi abilita gli sviluppatori a integrare i tag dentro le pipeline, quindi fondamentalmente aggiungere un pezzetto che genera i tag SWID nella vostra pipeline dovrebbe essere super easy, quindi un caso d'uso ottimale potrebbe essere un focus sul software deployato e quindi aggiungere i tag SWID per guardare i cambiamenti nell'artefatto binario quando si fa scan automatico, risk management, insomma gli assessment. quando si fanno gli assessment aggiungere i tag SWID potrebbe essere dare delle informazioni in più. A questo punto il post poi conclude con consigli per la costruzione di una strategia Sbom efficace. Quindi sicuramente l'automazione, ci sono vari tool se voi andate su OpenSSF oppure partite da Linux Foundation o guardate Salsa SLSA vi dà accesso o andate su Chain Guard anche il sito di Chain Guard insomma ci sono vari tool automatici per generare e leggere gli Sbom quindi prendete quei tool guardate la command line per capire qual è il formato che vi interessa di più come generarli li schiaffate all'interno di uno degli step avete la vostra pipeline quindi in CICD e avete l'Sbom generato dopodiché l'Sbom è un file quindi quel file o lo unite al pacchetto lo includete nell'artefatto o lo pubblicate da qualche altra parte in modo che rimanga linkato alla build no? Abbracciate la flessibilità dei formati quindi ci sono diversi tipi di Sbom diversi formati potete ecco non focalizzarvi su uno solo ma su tutti perché tanto i tool li supportano tutti metti l'ultimo punto metti la security e la compliance al primo posto questo è fondamentale bisognerebbe ecco iniziare a guardare questi tool non come un un di più del vostro software della vostra pipeline delle vostre build ma come la priorità cioè il famoso shift left nella software security mettete queste cose al primo posto quando costruite una pipeline mettete la generazione l'assessment delle dipendenze al primo posto delle priorità non dopo che avete già fatto tutto avete già la build avete già gli ambienti di dev di produzione ma infilate queste cose al primo posto insomma sono priorità perché poi la security dovrebbe essere insomma prioritaria c'è un ultimo paragrafetto sul futuro degli Sbom sono naturalmente sempre più adottati nell'amministrazione della supply chain e quindi c'è sempre più un commitment per aumentare la sicurezza e la trasparenza dei software questo non è soltanto una checklist quindi per essere compliant ma proprio una mossa strategica per migliorare tutti tutti insieme collettivamente il nostro atteggiamento verso la cyber security le organization quindi le company gli istituti pubblici eccetera in futuro devono rimanere flessibili in questo quindi adottare nuovi Sbom nuove pratiche nuove best practice e insomma tutto questo deve rimanere un approccio flessibile come in tutto il software open source insomma gli Sbom non dovrebbero essere soltanto anche qua lo ripetiamo una questione legislativa regolatoria ma un aspetto fondamentale dell'integrità e della sicurezza del software questo fondamentale da capirlo e da memorizzarlo bene insomma grazie a Aaron Linskens di Sonatype che ci ha scritto questa roba quindi se volete poi ritrovare questo blog post andate sul blog di Sonatype si intitola what are Sbom standards and formats spero di averli descritti bene insomma ho fatto un po' una sintesi abbastanza semplice no? però se avete delle domande più specifiche visto che sono anche diciamo parte in causa perché cerco di lavorare un po' con OpenSS cioè lavoro anche nel team DevRel di OpenSSF se avete delle domande su Sbom sulla security in generale sono qua potete chiedermi faccio il possibile per ricordarmi soprattutto per ricordarmi le cose perché a volte non mi ricordo nulla però insomma se avete delle domande specifiche o se state seguendo questa live o questa clip perché sicuramente creerò una clip da questo e avete domande più specifiche su Sbom sui vari formati su OpenVex sulle dipendenze vulnerabilità insomma su questa roba qua scriveteli nei commenti magari o beccatemi su altri social su LinkedIn non lo so dove volete e chiedetemi magari vi riesco a rispondere vi do qualche suggerimento anche per adottare queste che sono una serie di intanto di best practice ma anche proprio di tool di strumenti fondamentali che sono anche facili da adottare Daniele che dici i vari software closed source se hanno dipendenze come fanno a renderle pubbliche non è fondamentale renderle pubbliche è fondamentale averle perché in caso di assessment per esempio un assessment di security è fondamentale che tu ce le abbia per fornirle a chi ti fa appunto questo assessment oppure nel caso in cui come nel caso del Cyber Resilience Act quindi leggi europee passassero leggi che dicono che nel caso di una compromissione di una vulnerabilità tu sei responsabile perché hai consciamente installato nel tuo parco software anche se hai closed source una dipendenza che non potevi installare per questione di licensing o di vulnerabilità note tu per per essere compliant devi mostrare il tuo elenco ingredienti ma dovete anche pensarlo come proprio un requisito un requisito di legge se non un requisito se non una best practice proprio come un requisito andando avanti diventerà un requisito cioè chiunque produce un software dovrà avere a disposizione un elenco di componenti da mostrare poi all'occorrenza ecco se serve se lo distribuite insieme al software tanto meglio se non lo distribuite quanto meno tenetelo perché poi qualcuno ve lo può venire a chiedere se fa un assessment o se qualcosa va storto ecco e poi ve lo dovete rispondere proprio del vostro operato grazie Mariano un bel approfondimento pratico sì un bel video approfondimento pratico cioè pratico nel senso che ti faccio vedere come creare SBOM come leggere sì potrei fare non adesso certamente si potrebbe fare sì c'è un ci sono vari talk in realtà che potreste guardare per esempio Paolo Mainardi nostro CTO in Spark ha fatto un talk recentemente sulla software supply chain security dove la spiega un po' non mi ricordo come si intitola però se cercate Paolo Mainardi software supply chain security su YouTube dovresti trovare questo talk che va un po' a spiegare tutta questa roba e poi fa vedere non fa vedere come no mi sembra che fa vedere anche come generare un SBOM generare un SBOM però poi in realtà si concentra sulla firma di un container con Sigstore se mi ricordo bene che è un altro tema che potremmo affrontare poi in un altro argomento però sempre riguarda la security della supply chain Giovanni ho visto che esistono diversi plugin per generarli sì sì esistono certamente diversi plugin potreste guardare per esempio aspetta ancora aspetta ancora shift non c'è un sito più bellino di questo no ecco vabbè questo è un probabilmente uno dei tool più noti per creare SBOM quindi se cercate shift scritto s y f t anchor anchor shift ecco trovate questo tool che è un tool open source scritto in go e questo vedete vi crea vi crea l'SBOM cioè voi lo eseguite nella vostra codebase e lui legge legge le vostre dipendenze insomma e niente e vi genera l'SBOM nel formato che volete per container image file system insomma supporta vari formati potete dargli in passo una container image oppure il vostro file system e lui vi genera l'SBOM quindi è abbastanza proprio è super easy è una command line quindi lo inserite dove volete o lo generate nel vostro nel sistema locale o lo sbattete in CISD vedete supporta un botto di roba perché naturalmente tutte queste hanno le loro dipendenze lui sa come leggere le dipendenze o sul package JSON sul composer bla 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 e beh quindi Anchor Shift direi che è il il tool più più importante poi tra l'altro è molto estesa questa documentazione quindi vediamo se vi fa vedere anche un esempio di S-BOM no 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 non c'è un esempio di S-BOM vabbè sono sono file questo era Anchor Shift il tool penso migliore che potete usare per generare S-BOM abbastanza facile anche Giovanni non ho capito chi è il destinatario di una S-BOM il destinatario di una S-BOM è qualcuno che ti chiede l'elenco delle dipendenze del tuo software che potrebbe essere chi quel software lo vuole usare perché tu stai creando un software open source e quindi prima di usarlo io voglio sapere quali sono le dipendenze del tuo software quindi o mi guardo il package JSON nel caso di JavaScript oppure mi dai tu questo S-BOM e io mi leggo l'elenco di dipendenze con un tool automatico non è che me lo leggo a mano ma più probabilmente un un ente certificatore oppure un qualcuno che deve andare a vedere se il vostro software contiene vulnerabilità o è stato scritto o è stato creato sfruttando pacchetti che non poteva sfruttare per questioni di licensing o di vulnerabilità note perché vi ricordo che secondo alcune leggi non potrete creare software che hanno le dipendenze delle vulnerabilità note se create un software per la pubblica amministrazione per esempio ecco in questo caso qualcuno potrebbe dire bene io so che tu hai creato un software sfruttando una dipendenza che ha una vulnerabilità nota non lo potevi fare e tu gli dici non è vero provamelo come te lo provo con le sbomb eccolo qua vedi che non c'è vulnerabilità note fine questo è uno scenario più facile poi ce ne saranno mille altri ma sono tutti scenari di automazioni cioè io voglio automaticamente vedere se il tuo software è compliant con delle regole delle regolamentazioni o anche dei livelli di security io creo un software che deve essere a un certo livello di security quindi io metto dei requisiti per quel livello di security tra i requisiti ciò che non deve avere più di n vulnerabilità non lo so sparo a caso come faccio? devo leggere automaticamente la sbomb questo è insomma basta chiudiamo la sbomb di sbomb di sbomb